Pavese, la langa. Io sono un uomo molto ambizioso e lasciai da giovane il mio paese, con l'idea fissa di diventare qualcuno, ma l'ho attraverso lo stradone provinciale dove giocavo da bambino. Siccome, ripeto, sono ambizioso, volevo girare tutto il mondo e giunto nei siti più lontani, voltarmi e dire in presenza di tutti, non avete mai sentito nominare quei quattro tetti? Ebbene, io vengo di là. Certi giorni studiavo con più attenzione del solito il profilo della collina, poi chiudevo gli occhi e mi fingevo di essere già per il mondo, a ripensare per filo e per segno al noto paesaggio. Così andai per il mondo e debbi una certa fortuna. Non posso dire di essere più di un altro diventato qualcuno, perché conobbi tanti che, chi per un motivo o per un altro, sono diventati qualcuno, che, se fossi ancora in tempo, smetterei volentieri di arrovellarmi dietro queste chimere. Attualmente la mia ambizione, sempre insonne, mi suggerirebbe di distinguermi, semmai, con la rinuncia. Ma non sempre si può fare ciò che si vorrebbe. Basti dire che visi in una grande città e feci perfino molti viaggi per mare e un giorno che mi trovavo all'estero fui di lì per sposare una ragazza bella e ricca, che aveva le mie stesse ambizioni e mi voleva un gran bene. Non lo feci perché avrei dovuto stabilirmi laggiù e rinunciare per sempre alla mia terra. Un bel giorno tornai invece a casa e rivisitai le mie colline. Dei miei non c'era più nessuno, ma le piante e le case restavano e anche qualche faccia nota. Lo stradone provinciale e la piazzetta erano molto più angusti di come me li ricordavo. Più terra terra e soltanto il profilo lontano della collina non aveva scapitato. Le sere di quell'estate sul balcone dell'albergo guardai sovente la collina e pensai che in tutti quegli anni non mi ero ricordato di inorgoglirmene come avevo progettato. Mi accadeva semmai adesso di vantarmi con vecchi compaesani della molta strada che avevo fatta e dei porti e delle stazioni dove ero passato. Tutto questo mi dava una malinconia che da un pezzo non provavo più, ma che non mi dispiaceva. In questi casi ci si sposa e la voce della vallata era infatti che fossi tornato per scegliermi una moglie. Diverse famiglie, anche contadine, si fecero visitare perché vedessi le figliuole. Mi piacque che in nessun caso cercarono di apparirmi diversi da come li ricordavo. I campagnoli mi condussero alla stalla e portarono da bere nell'aia. I borghesi mi accolsero nel salottino disusato e stemmo seduti in cerchio fra le tendine pesanti mentre fuori era estate. Neanche questi tuttavia mi delusero. Accadeva che in certe figliuole che scherzavano imbarazzate riconoscessi le inflessioni e gli sguardi che mi erano balenati dalle finestre o sulle soglie quando ero ragazzo. Ma tutti dicevano che era una bella cosa ricordarsi del paese e ritornarsi come facevo io. Ne vantavano i terreni, ne vantavano i raccolti, la bontà della gente e del vino. Anche l'indole dei paesani, un'indole singolarmente fegatosa e taciturna, veniva citata e illustrata interminabilmente, tanto da farmi sorridere. Io non mi sposai. Capii subito che se mi fossi portata dietro in città, una di quelle ragazze, anche la più sveglia, avrai avuto il mio paese in casa e non avrai mai più potuto ricordarmelo, come adesso me ne era tornato il gusto. Ciascuna di loro, ciascuno di quei contadini e possidenti, era soltanto una parte del mio paese. Rappresentava una villa, un potere, una costa sola. Invece io ce l'avevo nella memoria tutto quanto. Ero io stesso il mio paese. Bastava che chiudessi gli occhi e mi raccogliessi. Non più per dire «conoscete quei quattro tetti», ma per sentire che il mio sangue, le mie ossa, il mio respiro, tutto era fatto di quella sostanza e oltre me quella terra. Non esisteva nulla. Non so chi ha detto che bisogna andare cauti quando si è ragazzi nel fare progetti, poiché questi si avverano sempre nella maturità. Se questo è vero, una volta di più vuol dire che tutto il nostro destino è già stampato nelle nostre ossa, prima ancora che abbiamo l'età della ragione. Io per me ne sono convinto, ma penso a volte che è sempre possibile commettere errori che ci costringeranno a tradire questo destino. È per questo che tanta gente sbaglia sposandosi. Nei progetti del ragazzo non c'è evidentemente mai nulla a questo proposito e la decisione va presa a tutto rischio del proprio destino. Al mio paese chi si innamora viene canzonato, chi si sposa lo dato quando non muti nulla alla sua vita. Ripresi dunque a viaggiare, promettendo in paese che sarei tornato presto. Nei primi tempi lo credevo, tanto le colline e il dialetto mi stavano nitidi nel cervello. Non avevo bisogno di contrapporli con nostalgia ai miei ambienti consueti. Sapevo che erano lì e soprattutto sapevo che io venivo di là, che tutto ciò che di quella terra contava era chiuso nel mio corpo e nella mia coscienza. Ma ormai sono passati degli anni e e ho tanto rimandato il mio ritorno che quasi non oso più prendere quel treno. Nella mia presenza i compaesani capirebbero che li ho giocati, che li ho lasciati discorrere delle virtù della mia terra soltanto per ritrovarla e portarmela via. Capirebbero adesso tutta l'ambizione del ragazzo che avevano dimenticato.